addirittura scherzo 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 ciao giordana come va come va il telefono come va non mi puoi accusare pubblicamente di averti rubato il telefono perché tutti mi fanno cazzo fai ridai il telefono cioè capito è una calunnia ma non l'ho preso io no scherzo no vero vero cioè è impossibile che me l'abbia no giuro è impossibile che me l'abbia preso lui giuro impossibile poi adesso dimmi dimmi dov'è il mio sorriso da joker grazie la bocca anzi neanche il sorriso sarebbe stato anche carino no no allora è perché ho la o la mandibola pronunciata ok e hai che affinità vabbè ma non è che io vado in giro così scusate un po tutti si fanno così hanno la faccia così e no 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 giuro no 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 che non ti sarei saputo no ci stavo dentro simo per favore scusa ci penso io ok no scusa ho tolto simone che però giolami c'è la prima c'è quando hai visto giordi che cos'è che pensato come primo impatto che ho la bocca da joker vabbè magari qualcosa di positivo no ho pensato ho pensato tipo è stra alto se vedi me allora cosa dici questo qua una macchia di deformazione è un infarto ma perché io sono un po bassina è vero no no è bassissima lei no 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 sei astralmente astralmente bassa giordana no bastina bastina